Nathalie Charrot, Lacan e le Mathématiques, edito da Anthropos, anni fa. Il libro è del 1996, mi pare, 1997. Un eservo in questa occasione resta che la teoria del gioco è impossibile. Armando Verdignone nel manifesto del secondo rinascimento del 1983, a pagina 154. Se il sapere inconscio esiste e ha un luogo, l'altro con la A maiuscola, tesoro delle parole inconsce che determinano la vita di ognuno, ci si può anche chiedere perché e come arrivino a tale determinazione, che per Freud è una sovradeterminazione, il determinismo inconscio. Anche perché e come altri non è soggetto allo stesso determinismo. Era l'interesse che Lacan aveva verso lo scrittore Philippe Solers, che non ha mai fatto l'analisi e sembrava non averne bisogno. E' anche l'interesse che Lacan ha avuto per Joyce, in cui la pratica di scrittura pare aver ritenuto il posto di quel nome del padre che è dato per non essersi mai iscritto nel suo caso. Per i Lacaniani che capiscono qualcosa di matematica, è anche il caso di Nathalie Charot, psicanalista, membro dell'école della Cosa Freudienne, e maître de Conferences a Mathematique. All'Università di Parisi VIII, alcuni elementi linguistici, chiamati matemi, ossia integralmente trasmissibili con una formula, come nella fisica, hanno una loro doppia faccia, una pulsionale, quella del sapere inconscio, preesistente al soggetto e appannaggio di una struttura presente, anche se invisibile, intoccabile, illegibile, eccetera. E l'altra matematica, oggetto a partire dal quale si è sviluppato un sapere matematico, quello a cui abbiamo accennato come integralmente trasmissibile. E curiosamente, poco prima di morire, Lacan dissolve la sua scuola, questione di trasmissione, impossibile. E come scrive Gerard Haddad, che ha fatto l'analisi con Jacques Lacan, solo oscure manovre sono all'origine delle cose della Cosa Freudienne e anche di altre associazioni psicanalitiche lacaniane. Diciamo che si tratta dell'ombra del padre che da morto è più forte che da vivo. E' una citazione di Freud, da Totem e Tabù. Ossia si sono fondate associazioni divine, teologico-politiche, che Carl Smith avrebbe potuto leggere nella loro Costituzione con il concetto di amico-nemico. Così, il ritorno a Freud, spronato da Jacques Lacan, ha incontrato non il suo testo, ma uno spettro amretico. E Freud resta sempre da leggere. Una doppia faccia pulsionale e matematica che è anche il risvolto dell'homo duplex, come lo teorizza l'antropologo dogmatico Pierre Le Gendre, che delle Coy Freudienne è stato un membro. Perché ci sia questa doppia faccia pulsionale e matematica non è oggetto di analisi e pare una constatazione che vale come postulato e non appunto come assioma. ciò che vale e entra nel viaggio intellettuale di ciascuno. In effetti noi constatiamo il sapere come effetto e non come sapere inconscio o preesistente al presunto soggetto e anche in matematica come risvolto dell'effetto di sapere che non preesiste a nessun soggetto. Perché non c'è nessuna ontologia dell'evento e dell'avvento dell'evento il cui tono dell'incontro è la verità la qualità assoluta della parola. Non c'è creatura gnostica che stia sotto il soggetto o che la sopporti come ha teorizzato anche il filosofo Louis Althusser quel paradosso di un processo senza soggetto tra l'altro anche il suo è il caso anche del suo assassino della moglie che ha avuto un processo senza soggetto ovvero non è stato soggetto al tribunale per questo assassino e teorizzava appunto un trigger un trasportatore un'altra nozione di soggetto il sogno di Lacan e di altri chiamati lacaniani è che dove non arriva l'ascolto e l'esperienza la matematica può con alcuni matemi Nathalie Charot parla di tre matemi maggiori in questo libro la strategia la nozione topologica di voisinage vicinato o gruppo di prossimità e l'infinito per giungere a un supplemento di sapere un significante nuovo altrimenti irraggiungibile per la psicanalisi questo homo duplex che accetta il primato del fallo la gerarchia con il suo comfort che ebbe come ebbe a dire uno psicanalista americano a Lacan per giustificare il fatto che mai avrebbe messo in discussione la sua associazione psicanalitica è il maranesimo volontario come la servitù volontaria di Boezio che afflige tuttora la psicanalisi ridotta a psicoterapia la presunzione è quella di una vera psicanalisi nascosta e di una facciata visibile socialmente accettabile di psicoterapia o come psicoterapia un supplemento di sapere caricaturale che giunge oggi dai tribunali in posizione di super psicanalista che taglia la testa degli psicanalisti laici marraini affermando che la psicanalisi è la più alta forma di psicoterapia l'attore comico Ugo Tognazzi con l'altra faccia del tragico l'avrebbe definita una super cazzola noi che abbiamo letto e leggiamo la teoria dei giochi sino al giovane John Nash e Junior che rasentava i muri dell'università come il suo maestro Morgenstern prima di ricevere il Nobel per l'economia abbiamo letto e leggiamo la topologia da Listing e anche dalla sua prefigurazione con la caratteristica universalis di Leibniz abbiamo letto e leggiamo Iper Soli consulente topologico di Lacan suicida pochi mesi prima della scomparsa del maestro che abbiamo letto e leggiamo da più di 30 anni il caso di Georg Cantor il caso di Kurt Gödel il caso di Alexander Grotendieck e questo negli ultimi dieci anni e altri oltre a infiniti libri di logica matematica da Peirce a Quine sino a Intika ebbene siamo in condizione di seguire parzialmente il ragionamento di Nathalie Chorot o quello di Jean-Michel Vaperon gesto che segue al progetto e al programma di lettura delle opere di Jacques Lacan Nathalie Chorot alla quale dobbiamo un grande testo d'archivio sulla vita e l'opera di Georg Cantor infinito e inconscio saggio su Georg Cantor del 1994 dal quale abbiamo ottinto molti elementi ma non la teoria come anche nel caso del matematico Belna altro eccellente archivista di Georg Cantor accetta la scuola di Jacques Alain Miller il più devoto chiarico di Lacan e quindi rimane interna Nathalie Chorot all'ipotesi dell'uomo duplex e alla fam dal godimento ineffabile infatti accetta il primato del fallo ecco come con l'infinito Nathalie Chorot regge l'impianto fallico e matematico dell'analisi Lacaniana dice noi concludiamo a una bipolarità infinito godimento ed è sempre la macchina di divisione algebrica e poi di rionificazione in un ordine gerarchico così avviene anche per la questione della sessualità maschile e femminile così avviene per il bene e per il male così avviene per il ricco per il povero così avviene anche in discipline quando noi andiamo a indagarla dalla biologia sino alla ragioneria persino dove l'impianto è teologico politico e la catena delle suddivisioni dei compartimenti diciamo della della materia si svolgono lungo lo stesso asseri divisori che è l'altro nome del fallo certo la macchina interpretativa di Nathalie Shawrod funziona e si fonda sulla teoria di Lacan per noi sono aspetti ancora da leggere sempre da leggere sono anche errori tecnici per quanto la nostra stessa analisi è con Lacan e non senza Lacan o malgrado Lacan questa doppia faccia pulsionale che psicoanalitica e matematica è quella che permetterebbe appunto come ho accennato di continuare lungo un'articolazione logica presupponendo poi di potersi riprendere la collezione con la psicoanalisi e di fornire qualcosa che la psicoanalisi non ha avuto orecchie per intendere rispetto quindi a questi oggetti matematici che ovviamente corrisponderebbero a oggetti psicoanalitici ecco quel che dice Lacan a proposta della topologia confermo che è del discorso di cui si fonda la realtà del fantasma e si tratta del discorso matematico che di questa realtà ciò che c'è di reale si trova iscritto per noi si tratta di una costruzione fantasmatica che non ha nessuna realtà e nessuno sbocco reale mantenendo distinte le nozioni di realtà e di reale come fa Lacan ma lui conferma che è del discorso che si fonda la realtà del fantasma ma il discorso è effetto non è causa non c'è questa realtà del fantasma il fantasma vuol dire copia la realtà della copia vale quel che vale vale un altro fantasma e il sasidio discorso matematico il discorso che fonda la realtà del fantasma quindi il discorso matematico come fondatore del fantasma e della sua realtà e che questa realtà che si potrebbe dire che in Lacan in breve è la caricatura del reale ciò che c'è di reale si trova iscritto cioè quel che di questo reale si troverebbe iscritto e sappiamo che il rapporto sessuale non si trova iscritto sarebbe dato dal discorso matematico ovvero non c'è nulla di iscritto perché il discorso matematico preso in questa accezione che fonda la realtà del fantasma è un fantasma il fantasma è irrealizzabile è tentativo di padronanza e di controllo sulla vita come può scriversi è la vita che si scrive e leggiamo appena quel che segue nel ragionamento di Nathalie Chorot che riprende la questione di quel che non è iscritto dice se il rapporto sessuale riprende questa questione rapporto tra virgolette perché Lacan dice che non esiste non può essere preso da alcuna matematizzazione Lacan ripete in questo testo che non è la stessa cosa per il fantasma la cui costruzione si appoggia sul cross cap sul piano proiettivo su un oggetto matematizzabile dice appunto Chorot e fonda la realtà del fantasma cioè il fantasma come coppia che non ha nessuna realtà se non di fantasma troverebbe la possibilità della sua matematizzazione e di prenderlo quindi come un oggetto che trova una qualche iscrizione nel reale per dire di questa ipotesi della doppia faccia dell'oggetto della doppia faccia pulsionale della faccia matematica della psicanalisi accessibile apparentemente appunto a solo pochi analisti dice Nathalie Cervo questo oggetto per ciascuno comanda ancora una volta la questione del comando della sua determinazione della guida il suo rapporto alla realtà ma se la realtà è il fantasma del reale comanda il fantasma il fantasma matematico comanda il fantasma del presunto soggetto sì se vogliamo sì chi crede alla matematica come comandante è matematicamente comandato è matematico la sua riduzione parla dell'oggetto al matema ne rivela la doppia faccia pulsionale e matematica questa è l'ipotesi di base che le cose abbiano una doppia faccia l'uomo duplex ha una doppia faccia se l'uomo è diviso è già diviso tra uomo e donna ideologicamente se è diviso da se stesso è homo duplex anche il famoso soggetto diviso è homo duplex leggiamo un altro fiore all'occhiello di determinismo che è anche il bersaglio di Heidegger per distruggere la nozione freudiana di rimozione nei seminari di Zonico filosofo che poi si sbilancia con la sua sovra determinazione della tecnica sino alla trasformazione dei fondi da pane in fondi crematori per l'eliminazione industriale degli ebrei e non solo c'erano anche i zingari omosessuali malattimentali testimoni di Geova ecco qui in basso dice dall'altra parte dello specchio la strategia inconscia trama ciò che il soggetto va a fare della sua immagine delle carte del suo destino e del suo rapporto agli altri questa strategia è determinata da una ottimizzazione di ciò che soddisfa il desiderio del soggetto tutto come se il sogno fosse una realizzazione di un desiderio strategia determinata soggetto determinato la necessità della nozione di soggetto che praticamente non c'è in Freud e questo determinismo è il la segue all'accettazione della doppia faccia dell'agnosi qui anche come ottimo ottimizzazione alla quale evidentemente si contrappone una fase che non ha nulla di ottimo la doppia faccia psicoanalitica e matematica delle cose questo postulato permetterebbe di risolvere la questione della trasmissione si può essere ben altra lettura della trasmissione noi diciamo che questa lettura riguarda la questa lettura di Anthony Chorot riguarda la presunzione di trasmissibilità quale fuga in avanti rispetto alla intrasmissibilità dell'esperienza psicoanalitica con le Colfridien che ha portato appunto Lacan a sciogliere la scuola dice se il matema è una nozione che traduce qualche cosa del sapere inconscio quindi non il sapere inconscio come effetto ma il sapere inconscio come preesistente è la possibilità di una qualche traduzione in termini matematici se il matema è una nozione che traduce qualche cosa del sapere inconscio in termini matematici la strategia è bene un matema lacaniano noi abbiamo mostrato che dice nella teoria dei giochi di strategia poteva essere trasmissibile la psicanalisi la psicanalisi può essere trasmissibile attraverso la teoria dei giochi e questo è un sogno occhi aperti si dovrebbe dire che la lettura di Natalisha Rho almeno in questo testo ma anche in quello di sul Gerov Accanto è senza lo zero non c'è lo zero non c'è il nome non c'è il padre non c'è la nominazione e questo non permette di cogliere là dove c'è atto e non c'è solo per Lacan l'atto non è che tutti gli altri all'infuori del maestro siano immersi o o appoggiati sull'acqua lì galleggianti sulla sulla questione senza intenderla dice per esempio a partire dal momento in cui Lacan abbandona l'intersoggettività e lo dice dopo che ha valutato verificato nel testo eccetera come la nozione di strategia quella che un attimo fa dicendo ha chiamato Mattima Lacaniano è utile per parlare in termini di intersoggettività e di campo cioè Lacan teorizza con la nozione di strategia l'intersoggettività differentemente da una relazione speculare tra due ha bisogno di quattro elementi per reggere questa intersoggettività e di calcolo ebbene un attimo dopo dice a partire dal momento in cui Lacan abbandona l'intersoggettività ebbene se Lacan abbandona l'intersoggettività ciascuno può abbandonare cioè noi facciamo una certa lettura del soggetto come una lettura agnostica che è in cartesia che è un aggiornamento insomma del burattino insito nei tre principi di Aristotele la A che viene usata no la A uguale ad A la A o non ha e non ha escluso quindi dal momento in cui Pinco abbandona il soggetto Palla abbandona il primato del fallo che cos'è questo abbandono? cioè Lacan se lo può permettere e Nathalie Charot non può abbandonare Lacan perché non può abbandonare Lacan rimarrebbe senza disarmare come gli ormeggi cosa diventa? una banchetta galleggiante nell'oceano della psicanalisi invece è questione della rimozione del funzionamento del nome se Nathalie Charot funziona come nome non ha bisogno né di abbandonare Lacan perché non è nemmeno quella la questione né di tenerselo stretto come pare né di tenersi stretto Jacqueline Miller perché non c'è questo abbandono che è una proprietà del sembiante perché c'è questo attaccamento alle cose della cosa a a Jacqueline Miller a Lacan e a qualsiasi altro soggetto monumentale di questo attaccamento l'abbandono non è la trafaccia dell'attaccamento l'attaccamento non è la trafaccia dell'abbandono o il nome si instaura o tutti giocano all'abbandono o all'attaccamento era Jacqueline Miller nella post-fazione alla Lacan di Solerz si definisce il più devoto dei chiarici di Lacan la topologia è stata un sogno di Lacan secondo Jacqueline Miller e allora appunto perché non abbandonare il sogno della topologia perché il chierico tra l'altro tiene a non abbandonare il maestro chi è questo maestro inabbandonabile l'impossibile sostituto paterno l'impossibile sostituto paterno da intendere l'impossibile sostituto del padre messo a morte del padre morto perché di questo si tratta quel nome del padre il sovrano bestia il maestro assoluto e giullare assoluto di Elisabetto Rodinesco leggiamo l'intera e breve conclusione così la strategia le voisinage l'infinito sono tre matemi maggiori di Lacan nella loro doppia faccia pulsionale legame con un sapere inconscio e matematico oggetto a partire dal quale si è dispiegato un sapere matematico quello che per Nathalie Choron è la prodo la conclusione per noi è la partenza è l'avvio dell'indagine un'indagine linguistica sulla strategia sulla vicinanza sulla prossimità le voisinage sul finito sull'infinito sull'ipotesi di questa doppia faccia pulsionale la dualità pulsionale non è la doppia faccia pulsionale esiste un sapere inconscio come preesistente e non come effetto invece nel lato di parola e tutte le altre questioni intorno alla matematica che è sul funzionamento riprenderemo queste questioni scritte ulteriori sull'ipote 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 hell che mi 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 mi